No, dove è andato? Scappa, scappa! Gli farà a B, a B, a B! Bravo, non fai! Ma che non lo sembra che lo fai! Ciao a tutti ragazzi! Io sono Adalbis! Io sono Ray! E io sono Lock! Allora, ad Albis gli piacciono tanto i bounty gelato e quando ne ha voglia li condivide con gli amici! Ok, è bravo Adalbis! Bravo! Si, bravo il cazzo! E beh, fatelo! Mi avevo dimenticato! Allora, stasera è 8 ore che facciamo dei boss e tu non hai fatto un cazzo e noi mangiamo il cazzo tuo! No, mangiamo il bounty gelato! Ma adesso tu vedrai che parliamo solo così! Va, 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 così di continuo! No, vai allo strada! Vai allo strada, se no la voce! Ma dove cazzo vai? Mi sembra che ogni puntata ci paghi qualcuno per presentare un prodotto! Ma in realtà c'è solo quello che abbiamo voglia di mangiare e lo condividiamo con voi, utenza dei Super Vating Bros! Forse la bounty gelato e la entertainment vorrei mandarci un assegno! Tu comunque avevi ragione che si scioglieva lasciandolo lì! Ma eh, pensa! Oh, prendi un gelato, lo tieni fuori dal freezer e si scioglie! E si scioglie! Incredibile! Cioè, è pazzesco! E io ho anche mal di stomaco, comunque! Ti fa passare mal di stomaco? Perché lei fa, io ho mal di stomaco, cosa faccio? Hai cosa da mangiare? Ma non so, io voglio di mal di gelato, ti vuoi mal di gelato? Sì, va bene, va bene! Vuoi le patatine? No, eh! Forna di stomaco! Vero le patatine no! Ho un bel gelato ghiacciato nel stomaco Passa tutto! Taglia! Ah, ma era una cazzata! Allora devi fare cose! Ma questo non è ovvio, eh! No, ma mi ricordo che era una cazzata perché vi hanno detto Era solo O e AB! Ah, è B, è vero! Tu potresti schivare sempre! Però ti sciotta! Smile! No, ma il segreto è andare! Prima prendere l'erba gialla, prima cosa, che se no qua non ci torni! Poi tutto il resto è secondario! Tutto il resto è secondario! Tutto il resto fa il boss è secondario! Eh! Mi chiedo anche il volume forse! Ma! Giusto un pelo! Ma un pelo! Eh scendi va! Eh sì sì! Perché lei mentre ci siamo d'Arsouls è anche un po' di volume, non sei toccato! Adesso non so! E poi quando ci siamo... Eh! Fa il volume tra poco! E sto passalo! Laa! Muzzo! Non l'hai neanche preso! Vabbè! Allora, queste puntate di Resident Evil sono un po' degeneranti! Scusateci ma abbiamo fatto tre giochi di fila! Stiamo morendo! Sono le 11 e 05! K! Di un giorno lavorativo! Di gioche! Per noi! Non per no! Che tempo è finito! No, io ho lavorato oggi! E ho fatto anche il corso a 6 settimane! 8 ore di quella roba! Ma una volta, tipo una settimana, lavoro 8 ore come tutti gli esseri umani! Aspetta, fallo a venire! No, è venuto, è venuto! Vedi? Ho fatto venire gli interrupt! Ma proprio così! Usiamo tutti i casi proiettili! Un boss! Al pompo da vicino, no? Al pompo da vicino, no? Eh, prendi le cappucce, va! Mi piace! Eh, ma è uno schifo! Abbiamo iniziato con il cibo in bocca! Lui ha ruttato all'inizio! Con il cibo in bocca! Cazzino! Eh beh, sì! Abbiamo iniziato con il bubbo! Ma parliamo il muro! E sai come si chiama il cibo in bocca? Cosa diventa? Il bolo alimentare! Ma sempre che lo so! Esplorando il corpo umano! Esplorando il corpo umano! Quante cose che impariamo! Cuori muscoli di palmono! Che spettacolo! Vabbè! Sì, ma adesso... ABI! Ma l'ho scherzato il muzzo! E ancora! Double hit combo! Eh, adesso... Master of the dodging, però più o meno! Uno spray! E poi qua mi aumenta la vita massima! Sì, però poi mi schiava con un'alba rossa! Eh, non ce l'alba rossa! Ecco ce l'avrai! Scappa! E comunque era troppo bello! Oh 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 oh! Uuuuuh! Non ho ancora neanche visto il... Duengi deve loading! Squatersing di tossing! E' uguale! Eh vabbè, poco danno dai! Spara! 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 Ricordiamo che siamo in ultra difficile! Non l'avevo più ricordato! Ma stiamo giocando in ultra difficile! Stiamo ricordando che Locke è un coglione anche! Molto di essere un coglione morto! Io vorrei ricordarlo questo! E' un coglione morto! Ma è difficile? E' un coglione morto! Ma è difficile più... E' un coglione morto! Cosa vuoi che faccio? I carichi? I carichi? Così in mezzo alla partita? Ma sei un idiota? Sei una testa di cazzo! Vabbè, se... non abbiamo avuto gli alcolici ve lo giuro abbiamo un mobiletto pieno cosa vuoi? gin, lemon, zai, zai a me non piace niente a me non si sente fino alla ma tu butti neanche le bottiglie vuote e la collezione perchè ad albis non butta via niente un collezionista è tipo un accumulatore giusto che sia lì questo cavo si si è quello dell xbox si sono un accumulatore compulsivo tipo quelli che fa vedere su realtime che riempiono una casa di merda si si accumulatore compulsivo quelli che stessi in merda la raccolgono in giro e la portano a casa hanno tipo la casa piena non so se è finito o vero niente lascia stare e no perchè voi non lo vedete chi lo vede adesso me lo dice come si chiama tipo ma che in solito non guardo via time ma no era time di max eeeh si si è la stessa roba più vera non guarda la mia risposta non li guardo ma perchè è renduto bene prima che li avevi sparato dall'altro commentate come si chiama il programma che non me lo ricordo ammuzzo girati ammuzzo ma no ammuzzo così guarda che arrivi ma si che c'è il barile anche non lo so ma ne hai un'altra perchè non la usi ah ehi polizzi oddio si è glicciato tipo il eh spara spara è glicciato nel fermo lì l'ho fatto lì perchè sta bruciando ma si è glicciato il mio ma poi quando è verde ti fa votare non è fermo non capisco uuuuuh a b ma che già non sai cosa ti fa vabbè vai su c'è l'erba c'è l'erba si su e spara ma su no abbiamo già visto l'altra volta si ma poi cadevi l'hai fatto prima bene no no su ti fa le le svingate ti fotte così così con serenità no così non è non è difficile se continui così e si accita sti giusti però fa gli stessi cazzo fa stessi cazzo eh a b fondamentalmente i colpi ti dà sempre quando ti dà la possibilità di schivarli giustamente vai le progetti le progetti intanto io non mi dico più un cazzo da prendere da altri boss perchè non lo fate bravo non lo fate andatevi vedere dal solo se non ci credete uuuuuh non mischia le erbette poi io sto per rilassare un attimo si è bello che puoi mettere pausa in da solo puoi mettere pausa eh no quello è vero ma neanche pausa davvero no non puoi non pausa mentre equipo pausa sono le componenti online diciamo è giusto è giusto è come se fosse un mmo guarda è un mmo offline semi offline diciamo schifo 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 cioè se sto sei ancora vivo sei ancora viva attenzione attenzione guarda un po' di scena scappa adesso zero vita vivo e sei bloccato ma facciamo un salto solo perchè non ci credo no ma vai anche sopra ti ti faceva no perchè lo spari di qua e puoi scendere no si è un po' facile no puoi scegli adesso adesso scegli ah ma si allunga proprio no no lui si allunga e fa così ti fa da 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 e beh ma adesso questo qua puoi schivare è morto no è venuto dal primo stage è venuto dal primo stage è venuto dal primo stage è venuto dal stage 2 no perchè adesso lo diventa tipo una merda non continua qua però adesso qua non sai il pattern però eh tu che ti ricordi granata granata cazzo incendiaria stai poi tipo volando la granata si 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 ma prende ah oh è qua almeno lo blocca la granata allucinogena allucinogena quella l'abbiamo finita nella puntata 1 oh cazzo quella lì che ti fa scappa 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 boh calma ce l'hai la grata cecante quello lì siccome hai visto che adesso in fase tipo plagassissimo ma è plagassissimo eh si eh si eh si eh vai vai arrampicarsi 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 dove lì vai dove è lì lì dove c'è rosso scappa scappa che ti prende lì due colpi e vai due colpi e vai non c'è freddo 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 ti vorrei agitare come hai fatto tendere solo due ma non lo faccio perchè non vuoi dire ecco perchè noi sappiamo noi ci teniamo ai video eh ci teniamo non che te non capisci un cazzo è vero tu che non ci tieni no testa di minchia non fai niente faccia di cazzo ma è sotto adesso è sotto ti fotto che c'è la nebbiolina AB 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 l'hai fatto cioè lo fai te quando lo vedi si eh no perché non sembra non muovi e non muovi però se c'è anche il nostro supporto vocale ma io gli ho fatto qualcosa di diverso perchè non riesco a dire AB dico sempre ogni volta ALU bah 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 perché mi prendo male ALU se tu andavi a risentire adesso ho detto ALU E finisci lo stufino E ho finito i punizioni eh no no la pistola adesso chiedi per terra che devi ricaricare ma è la tua via è la tua via è la tua via è andato è andato è andato granata granata incendiaria adesso adesso granata c'è canta in faccia ascoltami ti ascolto se non fa niente mi incazzo guarda l'ha buttato a terra lo stunna curati con quello che espande la vita è da lontano ma perchè non hai avuto una granata incendiaria no sei glicciato un divino guarda sta baga sensore di merda eh hai sprecato uno stunno scappa scappa vai via no no ma prendi pompa per favore vieni ti prego Loc dei super fighting bros facci vedere il tuo cazzone ok è bello che finisci tutto questo cazzo di boss ma va bene tutto bro però vedi in residente ti porto alcune risorse solo per i boss scappa scappa fidati puttana l'animazione ti salva il culo perchè ti viene di mortare è come fare una rollata adesso granata incendiaria quando viene mi dai quando viene giù quando va giù però intanto sparai no dove andato scappa ti farà a b a b a b bravo no io non so ma che lo fai e poi ogni volta pensa perchè è un cazzo di porca di porca in realtà è come un altro controller non è che hai detto che tasti premi cazzo ma non va eh cura di subito pausa cura cura adesso c'è ancora uno spray c'è ancora uno spray c'è ancora uno spray ma madonna falla adesso sei morivo ah si c'è uno spray madonna sei moriva adesso giuro che bestemmio ma giuro che bestemmio hai tanti bip granata branata sui cavalli bravo granata sui fai tuoi il ventino ti piace non ti piace no mi sei mi storia prendi no grazie usa mi storia vuoi prendere le sinodo grazie sono posto così sono posto così sto bene sto bene sono pieno emunizioni sto bene così eh se prendi dove cazzo è dove cazzo è scappa scappa no l'ansia non hai tempo L'abidità di daregli troppi colpi Adesso, è andato, è andato Senti che ci stassi, forse ci sentassi Sì, sì, schiacciatassi È morto L'occhio item Ma moriva già qua Penso fosse un boss tipo che ti portassi di troppo No, è riempito Bravo, loco, bravo Bravo, stai per fare una cazzata all'abilità di Dark Souls L'abilità di Dark Souls Ho stato dato un video a muzzo Ti guardi un altro video se vuoi vedere i filmati 30.000 30.000 Mannaise Però qua veramente è rischiato, lo sai Comunque qua non ci ritorni più, occhio, eh Che non prendi subito l'erbetta gialla Perché poi non ci torni Eh, ma pensavo mi... Io mi piace fare i vostri quote Infatti Sono proprio belli Eh no, io vado su Subito, eh No, sei cosa L'erbetta gialla subito, eh Vedi che prendi quella rossa e mi schiacola la verde No, prendiamo subito la gialla Perché poi la freddo, non sono in più, eh Aspetta, aspetta Prima cosa da fare qua Prima poi il torre se non conta Però Prima cosa da... Perché poi non ci torni più, eh Vabbè, adesso vedi che non potete fare la macchina Per un micro, davvero... Che bello il pezzo Eh, siamo un'erba rossa inutile, non abbiamo vita, siamo rossi, siamo fuggatori Ma si compra le medicine dalla micro Ma dai, questo va apposta a stare... Appena entrava in un posto nuovo, lui non dice un cazzo Ma che sa di non sapere le cose Vabbè, pensate di sapere troppo e dite la vostra, sempre Che è una cazzata... Che è una cazzata 99 su 100 che io posso rinfacciare Ma che cazzo esco? Dalla porta E adesso muore tipo nel fuoco E appunto ho paura del fuoco io Per fatto c'è H-Point, quindi... Eh, non lo so Non so, eh? Sì, dai Lì forse Sì, spazzate Palesemente non poteva Ma guarda che c'è qualcosa... Lì, esci Esci dalla porta? No, no, hai detto che non si può Dicevo, non si può Non si apre La leva potrebbe... Eh no, è perché le ha piegato il tiro Ha la piegata il tiro No, ma vai su Eh, no, va sopra forse Eh, ma se è sotto non vai Io ho sto microfono oggi in faccia Non mi vedete Però che cazzo me le fotte Eh, è stato... Adesso boh, una puntata E uscire da sto... Una, che... Eh, almeno mi schiava con la rossa, puttana Però non usava adesso Eh, sì, però Alla fine è uguale Ma non ti cura da qualche parte il gioco, no? No, non ti cura Vabbè Non fulla Almeno... Rosso e giallo, ricordiamo Si, fulla Madonna mia Però io ho detto rosso e giallo Ma perché scendi? Eh, eh, adesso Se scendi è palesemente sbagliato È palesemente È possibile che non uscire da qua È lì È lì, è lì Saltare oltre Là Ma come salta oltre bene Ma 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 non so Passavo di qui Ho sentito un po' di casino Ma lui dice un cazzo a lei Guarda ho appena combattuto un mostro di canse Ma no, no, no Ma che cazzo Vedi quelli fighi tipo che stanno zitto Quando fai figo Madonna mia Tipo Ray quando vince le cose Sì, la Madonna che fastidio Non da nessuno No, ti do quel sorrisino Quel sorrisino Compiaciuto Compiaciuto Il rabbino lo chiamiamo Hashtag rabbino 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 Dopo che ci fai ammazzare un boss così Due Sì 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 Ma metti lì vicino Oh Proprio male E' il potenzia Campo E' il potenzio No, adesso c'è il fuccio di pompa nuovo No, perché adesso Adesso c'è la pompa Sempre Ma in cazzo perché Guarda che fra un po' Prendiamo un'altra arma Poi prendiamo un'altra arma No, ma guarda che c'è quella dopo Potenziamo male Guarda che tu sei veramente un coglione Va bene, va bene No, perché Quando sarà il momento? Non stiamo facendo tutti i tesori Però adesso Abbiamo avuto problemi di danni? No Quindi non cagarete nemmeno il cazzo Hai avuto problemi di danni con Locke Hai problemi di danni? Usa Locke No, è bello tutto Tipo una medicina Fatti sparare da Locke Fatti sparare da Locke Diamo Ashley Andrà tutto Vedi che è stato Che Ashley è tipo semi morta da sempre Da sempre Dalla prima puntata che l'abbiamo trovata sta male Ma di Narnia proprio Sì, adesso torniamo indietro Perché? Perché usiamo l'occhio sulla porta che c'è all'inizio Ma senti, è un po' come Dar Sole, è vero? Come stile Che prendi della roba e torni indietro E pensa No, cioè È un gioco dove prendi la roba e torni Ma no No, però nel senso un po' questa Che il fatto che comunque Le zone specifiche sono quelle Ma i vanti E dammi un occhio No, vabbè Dopo un po' No, ovvio Ma non ho detto che Dar Sole Però L'idea di prendere questi oggetti Andare indietro Sui valori Pensa Pire le porte A chiudere le cose dentro La Sole c'ha qualche aspetto Sui valori È comunque È bello Andiamo a Ma so che sono bello Non si apre Ma magari un occhio potrebbe aprire Perché l'occhio di quel boss Apre la porta? È perché È il lettore della vetina È sì Guarda come la legge la vetina È andato in questo È proprio il lettore della vetina Mi stavo schiaffasse dentro Guarda come la legge la vetina È un coglione Mi stavo schiaffasse dentro Vedo un buco vuoto C'è un occhio vuoto Aprire Scusate Perché se si agita il WiMot Leon Leon si agita Perché è real È il movimento che fa lui Lo fa Ma una volta All'inizio il Wii Perché si pensava così Il movimento di Wii Perché il Wii non ci gioca a Wii Io non ci gioca a Wii Adesso è il caso Non vi preoccupate Torniamo fra un secondo Fra un secondo